ciao a tutti oggi prepariamo le verdure marinate sono buonissime e sono perfette da aggiungere ad un insalatona per darle un po più di sapore colore alle uova sode provatele e poi mi direte veramente vi do gli ingredienti per una due persone ci vorrà un bel peperone un po di prezzemolo va neanche quello sul gelato se non lo avete fresco un paio di gambi di sedano una bella cipolla un cetriolino meglio se avete i gurken che sono quelli un po grossi e leggermente in agrodolce se non andrà bene un cetriolino normale normalissimo un cucchiaino di capperi un paio di cucchiaini di olio extravergine di oliva aceto a vostro gusto io utilizzo un aceto leggermente aromatico infatti dei pezzettini in fondo se vi piace del pepe nero e infine lui il nostro ingrediente segreto al lavoro andiamo a tagliare le nostre verdure a dadini piccoli mettiamo le nostre verdure dentro un contenitore adatto al frigo che abbia il coperchio dimenticavo sono ottime anche queste verdure da aggiungere alle patate lesse vedrete che gusto vi ricordo che trovate l'elenco completo degli ingredienti sotto se cliccate in descrizione aggiungiamo anche il cetriolino e i capperi condiamo con l'aceto l'olio il pepe nero se vi piace aggiungiamo il prezzemolo tritato e soprattutto lui il nostro ingrediente segreto poi mescoliamo bene e mettiamo il frigorifero coperto almeno una decina di ore perché deve marinare dovrete solo ricordarvi di dargli una mescolata magari un paio di volte intanto mentre loro riposano vi ricordo di iscrivervi al mio canale così ogni settimana gratuitamente riceverete la ricetta ed eccole pronte e adesso che hanno riposato possiamo tranquillamente usarle per condire qualsiasi cosa oggi userò questo mix per condire l'insalata di patate e a questo punto svelerò che l'ingrediente segreto è qualche goccia di salsa worcestershire che darà un gusto un pochino più saporito al nostro mix di verdure se vi è piaciuta la ricetta mi raccomando condividetela con chi vuole perdere peso ma non vuole fare troppa fatica ciao alla prossima ricetta